se vuoi c'è una città di genere però non riesco a vedere cosa acavo il tiro il tuo rumore un nuovo uomo delle pulizie quanto parire sta roba amici siamo a fare le prove di il fatto che sono l'artista italiano più ascoltato su spotify e Eliana ha deciso che l'anno prossimo mi darà un aumento di fatto non facciamo foto quando Jaskin fa le prove perché non vuole essere disturbato stiamo per andare in diretta io ho dormito due ore questo è mio papà che fa i pass falsi è un po' di più 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 è un po' di più